Abbiamo di fronte l'editore della casa editrice Edi Grafema di Policoro, una giovane intellettuale, Antonella Sant'Arcangelo, che ha voluto lanciare il libro di Vincenzo Celano, L'animale a sei zampe, puntando sul valore dell'opera e sul prestigio dell'autore. Antonella ha maturato anni di esperienza in una storica casa editrice pugliese, la Palomar, perché hai deciso di aprire coraggiosamente la casa editrice a Policoro, in Basilicato, una terra ostile alle innovazioni progettuali in campo editoriale, in campo culturale. Un'esperienza quinquennale, la mia, la casa editrice Palomar, senza dubbio interessante per un insegnamento che ho portato anche in questa mia nuova avventura, ovvero un insegnamento enaudiano, pensare i libri. Dunque il tentativo, ripartendo dalle mie origini, la mia regione, la Basilicata, di dare una nuova voce anche ad un discorso culturale, intellettuale, vasto, ampio. In questo rientrano delle scelte editoriali precise. Abbiamo già inaugurato tre delle nostre collane di saggistica, di poesia e di narrativa con il volume di Vincenzo Celano, con L'animale a sei zampe. Tutte e tre le uscite rientrano nella nostra mission perché il tentativo è quello di partire dalla nostra territorialità, dalla nostra regionalità, ma è quello di esportare le nostre menti raffinate come quella di Vincenzo Celano e del suo Animale a sei zampe, anche al di là dei confini regionali. In particolare l'opera di narrativa che inaugura la collana Luci in città è una prima delle nostre luci, un primo faro della nostra collana che in un certo senso sottolinea quello che poi rientra nella nostra storia di casa editrice, ovvero che dal ricordo si possa sottolineare l'importanza della memoria, ovvero anche riportando dei fatti come il volume di Vincenzo Celano, fatti che appartengono al nostro passato, alla nostra storia anche antifascista per diversi aspetti. Quindi chiedo scusa, cosa ti ha convinto del libro? Mi ha convinto il tentativo ben riuscito e raffinato di Vincenzo Celano di trasformare quelli che sono aneddoti, ricordi, in memoria. Si può progredire, una giovane casa editrice, ecco qui il rapporto con noi anche imprenditori in questo senso editoriale, è quello appunto di partire dalle origini ma rivivendo e facendo della memoria il nostro caposaldo, ovvero oggi noi riviviamo quelli che erano i profumi di un tempo, quelle che erano le gesta dei contadini di un tempo. La storia possiamo farla anche noi ma ripartendo dalle origini salde, dal nostro passato. L'ultima, come accolta Policoro il progetto editoriale di apertura della casa editrice? Sicuramente in maniera molto positiva, da Rotondella che è il mio paese di origine, ma Policoro ma all'intero metà pontino, per giungere poi addirittura qui a Castelluccio, quindi anche nel potentino. La nostra terra è stata colonizzata dai greci, i greci ci hanno lasciato storia, parole e quindi non possiamo che aver trovato un clima sicuramente favorevole di accoglienza e anche per certi versi di curiosità, perché dei giovani investono, perché investono nella cultura. E sicuramente sentir anche intellettuali, adulti e di un certo livello, sottolineare la passione che hanno intravisto in questo progetto, credo sia un buon auspicio per il nostro futuro. Domanda, perché hai dato il nome Edi Grafema alla tua casa editrice? Edi Grafema nasce dal Grafema, anche nel nome abbiamo voluto rimarcare le nostre origini. Il Grafema è l'unità fondamentale, se non esistesse il Grafema non potrebbero esistere le parole, le frasi, i discorsi, i romanzi. E quindi è sempre da una conoscenza profonda di noi stessi e delle nostre origini che potremo anche inondare la nostra regione di fiumi di parole. Grazie.